Perché quella storia, se c'è uno scandalo, è il fatto che si tenti di rubricarla a gossip. È tutt'altro che gossip la vicenda della casa di Monte Carlo. È sottrazione del patrimonio umano, morale, politico di una comunità. Ora, Monte Carlo, Monte Rotondo, il silenzio. Io non so quali scempiaggini sta dicendo in questa stessa ora il Presidente della Camera a Mirabello. So solo che non può più tacere come ha fatto fino adesso. Noi abbiamo rivolto delle domande. Abbiamo chiesto, abbiamo proposto anche un contraddittorio in diretta televisiva. D'altronde tu sei così bravo in televisione, io sono così rozzo, vinci tu. Tu sei così elegante, io no. Noi siamo brutti, sporchi e cattivi. Ce la puoi fare a giustificare. Ma ci vuoi spiegare, che so, visto che ci hai raccontato che eri stupito di aver saputo della presenza del Giovin Tulliani nella casa di Monte Carlo, ci dici quando l'hai scoperto in quale ora, in quale minuto, in quale nanosecondo lo hai preso a calci nel deretano per essersi permesso di aver fatto questa cosa. Non devi dire di essere sotto attacco dei media della famiglia del Presidente del Consiglio, perché non appartengono ai media della famiglia del Presidente del Consiglio, il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, i telegiornali. Tutto il mondo si è chiesto cosa era successo. Non ha risposto alla domanda di come mai ha scoperto la dimensione illiberale di Berlusconi solo 15 anni dopo averci convissuto insieme. E come mai, invece, ha sciolto l'alleanza nazionale in un colloquio durato 5 minuti, facendo trovare tutti di fronte al fatto compiuto. Cara Monica, lui vuole far rispettare le minoranze interne che ha calpestato quando guidava il movimento sociale ed alleanza nazionale. Fanno una battaglia di legalità e sono gli stessi che non più tardi di due anni fa andavano in Sicilia a difendere il diritto a restare al suo posto del Presidente della Regione Totò Cuffaro, Fabio Granata Assessore, festeggiavano insieme con i cannoli e oggi ci viene a raccontare di legalità. Allora io non pretendo risposta a queste domande. Ormai siamo abituati ai silenzio. Ma almeno a due, che sono tutt'altro che gossip, questa comunità pretende risposta. Lo dobbiamo a noi stessi, a chi ci ha preceduto, ai martiri a cui hai fatto riferimento. Perché un partito che riceve una donazione per la giusta battaglia? Una donazione che è ubicata a Monte Carlo. Posso capire, non ci fai una sezione con una casa a Monte Carlo, ci devi fare cassa, te lo dico con grande trasparenza. Ma perché, anziché rivolgerti all'agenzia immobiliare sotto la direzione del partito, vai a cercare una società nelle Antille, nei paradisi fiscali, per andare a piazzare quell'appartamento? E perché, seconda domanda, tra sei miliardi di uomini e donne della terra, ci va a finire proprio tuo cognato. io vorrei essere certo che dietro quelle società delle Antille non c'è nulla che sia legato a vecchi biscazzieri che hanno fatto affari sporchi riciclando denaro sporco. Fini si è lamentato, ha detto che ha subito un processo mediatico, tutto sommato è stato un processo breve, potremmo dire. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha querelato i giornalisti che hanno scritto. Suggerirei al Presidente della Camera di abbandonare questa volontà. Perché quando tornerete nelle vostre case, lui deve sapere che ci sono almeno duemila persone che sono passate in questa festa e hanno dichiarato la loro disponibilità, siccome siamo bravi su internet, a postare quegli articoli con le nostre firme e facciamo un bel proxiprocesso sulla casa di Monte Carlo. Vogliamo fare questo, l'onorevole Fini? O vogliamo semplicemente raccontare la verità? in realtà la verità non la posso raccontare perché in piedi c'è ben altro disegno ed è quello che prende forma in queste ore dall'altra parte d'Italia, l'altra sponda del mare. È il disegno di un partito nuovo con questo spietato gioco del cerino. Non sono io che me ne vado sei tu che mi cacci. Cara Faenzi io fossi Berlusconi li caccierei subito. Subito. E la gente capirebbe. Lo capisce anche dalla sigla del partito FLI. Sembra il codice fiscale di Marco Follini. FLI. Le pensano tutte. Noi vorremmo semplicemente rivendicare quello che altri hanno abbandonato. Vedete io spero che si possa arrivare a una collaborazione che qui è stata auspicata. Nel nostro simbolo ci teniamo per difendere il nostro simbolo abbiamo anche accettato l'espiazione siamo usciti dal Parlamento per combattere una bantaglia che non portasse mai a tradire il simbolo in cui abbiamo creduto. E io spero che ci possa essere questo percorso farà una condizione che nessuno ci chieda mai di svenderci. Essere di destra significa averlo nel senso di giustizia. Essere di destra significa risiutare la rassegnazione non cedere a questa sorta di relativismo al quale ti devi inchinare ogni giorno. Lo abbiamo visto che cosa voleva dire non essere di destra persino nei giorni drammatici e travagliati del caso Inglaro quando la vita poteva essere distrutta. Lo incitammo da fuori dal Parlamento il governo a farla la propria parte a difendere quella vita. Ci indigna il relativismo che contagia la politica e la cultura. Ecco quello che non aveva capito il presidente della Camera. Vedete la differenza come è cambiata anche l'uditorio. Una volta per prendere applausi Adriano l'oratore citava Almirante ora per prendere fischi si cita Filippo. Ebbene qui nessuno chiede all'Italia di rimanere ancorato a un passato che non c'è più. È evidente che nessuno insegue il ghetto e nessuno lo chiedeva a quella che era la destra. Però viva Dio se da un lato sappiamo che la destra deve ammettare a governare perché se vogliamo è la ragione stessa della politica ma non l'unica perché la prima ragione è la rappresentanza dei propri ideali dei propri interessi dei propri valori essere di destra vuol dire anche che non devi governare a tutti i costi svendendo tutto anima compresa vuol dire anche saper rinunciare a poltrone incarichi prebende essere di destra vuol dire affermare verità scomode vi faccio un esempio proprio l'estate scorsa un anno fa l'onorevole Fini mieteva applausi alla festa del partito democratico di Genova se l'onorevole Bindi arriva a proporre un'alleanza con l'onorevole Fini al di là se è finto è vero ma ti rendi conto quante capriole hai fatto perché a me l'onorevole Bindi non proporrà mai un'alleanza con lei e a te sì per l'ambiguità del tuo linguaggio e dei tuoi comportamenti ecco la coerenza il valore della lealtà principio fondativo di una comunità che vuole essere orgogliosa del suo essere di destra certo poi ci sono anche le alleanze scomode perché pensate che quello che ha detto Musetti sulla Lega non sia il sentimento di ciascuno di noi eppure guardate basta far favorire la Lega in un modo solo ritirarsi dal gioco della politica e lasciargli campo aperto oggi io vorrei il vero pentimento di chi mise il veto nel 2008 alla nostra partecipazione all'alleanza più destra e magari più DC ci sarebbero stati meno parlamentari della Lega ci sarebbe stata più forza per il messaggio della nazione invece si è voluto far prevalere il senso della ripicca anziché quello della politica oggi probabilmente avremmo un'Italia più a destra e un'Italia più a destra non avrebbe avuto i dubbi di fini sul testamento biologico né le esitazioni governative sullo stop alla stessa pilola abortiva e magari avrebbe agito con più nettezza nel rapporto tra cittadini e banche un'Italia di destra garantirebbe ai lavoratori ministro Tremonti non solo la partecipazione agli utili ma anche alla gestione delle aziende non assisterebbe passivamente alla tragedia delle morti bianche e magari si scandalizzerebbe anche quando è un italiano a rimanere vittima per un reato commesso da uno straniero un'Italia di destra non avrebbe fatto silenzio di fronte alle compiacenze verso il colonnello Gheddafi avrebbe sbarrato ogni strada al solo tentativo di garantire il diritto di voto agli stranieri avrebbe preteso maggiore serietà ecco cosa è mancata è mancata la lealtà verso il proprio popolo quel popolo che è rappresentato per decenni grazie a tutti